Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ed eccoci tornati con il terzo episodio di MSMV, il moso mazzi vostri, la rubrica che svelerà i segreti più reconditi dei vostri mazzi. Prima di passare all'analisi del deck che andremo a trattare in questo video, volevo condividere con voi un nuovo modo per scegliere il prossimo protagonista. Il forgiatore Marco Perrini infatti mi ha contattato in privato, esponendomi il suo modo di vedere l'evoluzione del format, e ne sono rimasto davvero entusiasta. Infatti per la prossima puntata di MSMV si avranno tre mazzi proposti in un sondaggio sulla pagina Facebook di Keyforge, il link che lo trovate in descrizione, e dovrete votare secondo il vostro personale parere quali dei tre verrebbe escluso in una gara, proprio come se stesse giocando in un torneo tripletta. Il più bannato vincerà il contest e sarà preso in esame nella prossima puntata. Ringrazio quindi Marco Perrini per la proposta che verrà sicuramente messa in pratica dal prossimo episodio. Detto questo, l'estrazione che state vedendo in questo momento ha sorteggiato il mazzo di Nicola Grassi. Con casate Logos, sauriani e ombre, ecco a voi Marfoy, sorvegliante selvatico. Andiamo a dargli un'occhiata. Il mazzo ci apre le sue porte con la cibernetica, meccanica e scientifica casata Logos. Dove a darci il benvenuto troviamo il ricercatore dello Ziggs. Grazie al suo effetto gioco potrete archiviare carte dalla vostra pila degli scarti, se avrete bisogno di risorse da utilizzare già dal prossimo turno, o archiviare una carta dalla cima del deck, proprio per ovviare alla mancanza di risposte che sarebbero utili a contrastare la giocata del vostro avversario. Ricerca da taglia gole è una carta situazionale, ma avendo casata sauriani nel mazzo, con il loro continuo esaltarsi, vedrà la ricerca applicare, non di rado, il suo effetto per intero. In caso contrario, giocarla per liberarsi la mano, se dovesse capitare nei primi turni di gioco, vi farà comunque guadagnare un'ambra. La figlia non ha bisogno di presentazioni, come per la madre a fine turno vi rifornirà la mano di una carta in più. Creatura sempre gradita dentro un mazzo con Logos, che dovrà però essere protetta adeguatamente con carte come Ologramofono, Paraguardiano o dargli più consistenza con Scutum Imperiale, in modo che possa sopravvivere il più a lungo possibile. Quasiride all'inizio non la riteneva una carta fondamentale in un mazzo Logos, e invece in questo deck ha due funzioni fondamentali. La prima è ciclarlo e farvi cercare una carta utile. In questo modo aumenterete il valore della vostra giocata, perfezionando le strategie che avevate in mente. La seconda funzione è in combinazione con il ricercatore. Infatti, se vorrete integrare una delle carte scartate per l'effetto di Quasiride nel vostro piano di gioco, vi basterà metterla in cima alla pila degli scarti e con il ricercatore archiviarla per poterla riprendere in mano nei turni successivi. Apsis è una carta davvero molto interessante in combinazione con l'Ologramofono. Infatti, influenzando il servitore con l'artefatto, si potrà permaproteggere, almeno per il proprio turno, la creatura mutante. In più, ogni volta che si distruggerà un servitore nemico, si avrà la possibilità di pescare una carta e questo potrà rappresentare una vera e propria minaccia per il vostro avversario. Ologramofono, come già ho detto, svolgerà la funzione di artefatto di supporto, andando a proteggere ogni creatura amica che si vuole ogni volta che si sceglierà casata Logos. Con Manalista, ogni volta che si raccoglierà, si avrà la scelta di giocare una carta azione non Logos nel proprio turno. Quindi, potrete liberare la mano giocando carte fuori casata e aumentando il valore della vostra strategia. Niente male, soprattutto se si hanno in mano carte come Isidio e dinosauri indeboliti dalle battaglie e carichi di ambra in gioco. O ancora le varie azioni ombre, come Colpo Fastidioso, che limiterà i movimenti di una creatura avversaria, o Catena Impercettibile, che costringerà il vostro rivale a giocare con una carta in meno scombussolando gli piani. Come per la figlia, vale la pena proteggere o rafforzare questa creatura per gli stessi motivi già descritti in precedenza. Vapori di Tau Tau è una carta utile. Vi permetterà di pescare due carte e subito dopo vi farà archiviare una carta. Ottima come sempre per andare alla ricerca di risorse e per mettere carte da parte che non vi sarebbero utili a nulla in questo turno. Il Wormall credo che oramai lo conoscano tutti. Carta iconica che ci accompagna dalla prima edizione ha permesso a molti giocatori di capovolgere le sorti di un incontro al loro favore. Un'ambra giochi carte dal mazzo anche se di casate diverse e se va bene potrete migliorare la vostra giocata e se va male poco importa. Con il ricercatore qualsiasi carta scartata a vuoto in realtà non è mai a vuoto. Macaco Dice ha un interessante effetto ma dovrà essere giocato con condizioni specifiche sul terreno. Per questo archiviare creature logos vi sarà d'aiuto dato che se dopo aver ripreso in mano gli archivi giocherete due creature logos vicine, il ricercatore preferibilmente deve essere una di queste e metterete sui fianchi una figlia e una seconda carta logos a piacimento. Posizionando il macaco tra il ricercatore e la sua vicina non sul fianco potrete archiviare queste ultime permettendovi di utilizzare l'effetto del membro dello Ziggs una seconda volta nei turni successivi e mantenere il vantaggio carte facendo rimanere la figlia in gioco. In più otterrete due ambre. Il carro ID armato a meno che non si presenti l'occasione giusta lo vedo solo come servitore da ambra dato che il suo effetto riguarda tutte le creature presenti in gioco. Nel peggiore dei casi sarà utile per portare a casa una gemma e fare presenza in board. Ultima ma non per importanza troviamo l'accesso remoto che è sempre stata una carta molto valida soprattutto contro mazzi che giocano parecchi artefatti. Utile se contro si ha un avversario che gioca un altro ologrammofono o altre carte di seconda linea che favoriscono i servitori sul campo. Altrimenti giocata a vuoto da sempre ambra. Una sezione logos interessante ma nella media che non è né eccessivamente forte ma neanche eccessivamente debole. Che fa il suo aggiungendo valore alle giocate presenti e future del mazzo. Ha un discreto motore di pescata e si sposa bene con le altre casate, carro ed armato escluso, creando più soluzioni alle quali il giocatore può attingere. Dalle tecnologiche sedi dei logos spostiamoci verso la città imperiale dei sauriani. Ad adornare i portoni delle mastodontiche architetture della repubblica possiamo trovare lo scutum imperiale che già come anticipatamente detto è una miglioria che svolgerà il ruolo di rafforzatore per le vostre creature e vi farà ottenere un'ambra non appena giocata. In più mette al sicuro le varie ambre che i sauriani si accollano a causa dell'esaltazione e questo rende quest'ultima procedura meno preoccupante. A farci da guida una volta aperte le porte della cittadella una coppia di legato raptor ci darà il benvenuto. Proprio questa coppia di servitori farà al caso vostro in combinazione con l'esilio. Essendo entrambi sul campo infatti potrete sfruttare il loro potere per un massimo di tre volte a testa esaltandoli entrambi e avendo su due creature ben sei ambre sopra. Se avrete fatto bene i calcoli i due legato avranno ancora poco da vivere e con la doppia coppia di esilio passerete il controllo dei due sauriani al vostro avversario per poi utilizzare il colpo della falange per finire l'opera. Ponto finale otto ambre in riserva due di esilio e sei di legato. Odoak mette al sicuro la propria riserva di ambre impedendo al rivale di rubare con un'eventuale casata ombre e proteggerlo con ologrammofono o un paraguardiano darà ulteriore filo da torcere al vostro rivale lasciandogli a tutti gli effetti delle carte morte in mano. Con colpo della falange oltre alla combo con il legato si potranno avere a disposizione delle frecce pronte a partire verso la bordo nemica con l'ausilio di una bella schiera di creature sotto il proprio controllo. Bombardare per due volte creature diverse o la stessa creatura toglierà di mezzo fastidiosi servitori con illusione o colossi inarrestabili che con mutazione di massa hanno fatto la loro comparsa sul crogiolo. Unica pecca l'esaltazione per poter innescare di nuovo l'effetto della falange ma con l'ausilio degli esilio basterà caricare sempre la stessa creatura per poi cederla volentieri al vostro avversario. E in mancanza di queste ultime? Con l'aiuto della senatrice Shrix potrete spendere le ambre sui vostri servitori come se fossero nella vostra riserva aumentando così le chance di chiudere l'incontro anticipatamente. Questa creatura dovrà essere blindata in modo che il vostro avversario non ve la faccia fuori men che non si dica quindi come per la figlia Manalista e Odoak anche per la senatrice i paraguardiano e l'ologrammofono saranno di vitale importanza. E finalmente arriviamo alla coppia di esilio. Già si è detto molto su questa carta ma una cosa vorrei aggiungerla a titolo informativo. È consigliabile giocarla quando si assicuri matematicamente di caricare una creatura con più di tre ambre. Questo perché una volta distrutto il proprio servitore egli vi regalerà almeno una metà della chiave per questo va bene in sintonia con il legato. La coppia di paraguardiano è utile perché esaltandolo dopo il raccolto fornirà protezione ai suoi vicini quindi neanche standolo a dire la figlia Manalista o Odoak e la senatrice saranno gli obiettivi comprimari da affiancare a questa creatura. Anche perché il servitore più importante da proteggere sarà Livia l'anziana. Con essa si potrà sfruttare al meglio la presenza a bordo del legato che limitandosi a raccogliere esalterà se stesso ripristinando una creatura amica sul terreno. Così facendo la strategia con l'esilio guadagnerà ancor più valore ma sarà un'arma a doppio taglio. Questo perché se non protetti a modo i legato potrebbero essere distrutti fornendo al vostro rivale la chiave mancante per avvicinarlo alla vittoria. Ma se tutto dovesse andare come previsto mettereste virtualmente le mani su tutte e tre le chiavi. Infatti raccogliendo tre volte ciascuno con il legato per l'effetto di Livia portereste a casa sei ambre e altre sei sui raptor e affiancando queste ultime ad un paraguardiano il legato si andrebbero a proteggere dalle insidie nemiche. Nel turno successivo ripetendo ancora una volta la procedura lottando invece che raccogliendo questa volta metterete in atto la strategia con gli esilio portandovi a casa la bellezza di 14 ambre pronte per essere forgiate. Strategia ancora più vincente se ci dovesse essere la senatrice e Oduak in gioco. In quel caso vi converrà a spendere solo le ambre sulle creature lasciando intatta la vostra riserva che non potrà essere attaccata da nessuna fonte esterna che ruba. È normale che avere tutte queste carte in mano per essere giocate simultaneamente non è facile ma neanche impossibile dato che con la sezione logos di cose da archiviare ne avrete sicuramente molte. Per concludere arriva lo Spartacosaurus, una vratta perenne che spazza via qualsiasi forma di vita non dinosauro dalla faccia del tavolo da gioco. Ottima se si hanno solo dinosauri, lievemente antisinergica se si ha apparecchiato la board e l'avversario decide di giocarla contro di voi. Infatti è capitato più volte che l'effetto di questa creatura abbia guastato i piani strategici di un forgiatore ricorrendo ad un suicidio annunciato. Suicidio che però fornisce due ambre ogni volta che combatte. Fa casino a sua insaputa ma sa come farsi perdonare soprattutto se in combinazione con i due legato. In quel caso le ambre che portereste a casa vanno da 2 a 8. Il numero dipende da quanto lo Spartaco riesca a sopravvivere alle battaglie. Sezione Sauriani, bella massiccia e piena di creature. Carte azione che si sposano perfettamente con le abilità dei servitori presenti, ma che richiedono un po' per essere innescate e per impensierire l'avversario che, se non riuscirà a leggere in tempo la vostra strategia, si ritroverà nel Triassico a fare conti con tutta la maestosità e la furia dei giganti del passato. Salutando le incredibili architetture della Repubblica, il nostro viaggio continua ponendo la meta nei bassi fondi di casata ombre. Durante il tragitto ci imbattiamo in Banco dei Pegni, che appena giocata fa guadagnare un'ambra e che distrugge un artefatto e se l'effetto si completa il banco vi farà ottenere un'ambra aggiuntiva. Entrando nei bassi fondi veri e propri, Cipalippa fa la sua comparsa e con il suo effetto gioco va a catturare un'ambra dal vostro avversario e se quest'ultimo ha più chiavi forgiate di voi, ne ruba un'altra. Se riuscirete a completare l'effetto per intero, rallenterete la forgia del vostro rivale, beneficiando attivamente di qualche pezzo di chiave ancora non forgiata qui e là. Olpo fastidioso è quella carta che, come suggerisce il nome, dà fastidio. Usata verso creature che con i loro effetti, raccolto o azione, realizzano conseguenze molto forti, impedirà lo svolgimento della strategia nemica, costringendo ogni creatura adirata a combattere. La duplice copia di Ronny andrà a limitare i danni se dovessero esserci fughe di ambre causate dalla distruzione dei sauriani, rubando un'ambra appena si gioca la creatura, o due se l'avversario dovesse avere sette o più ambre. Simon è una carta che suscita amore e odio. Piccola e vulnerabile praticamente in ogni dove, è utile soltanto se combatte o raccoglie, ma la sua esile e costituzione la rende fredda facile per ogni tipo di carta che infligge danni. E questo non è proprio il massimo per una creatura. Ma c'è un ma. In combinazione con il legato potrebbe far danni, dato che, combattendo un servitore che non è protetto né affiancato da creature con provocazione, lo costringerà a tornare in cima al mazzo dell'avversario, e se quest'ultimo avrà delle ambre su di sé, permetterà alla vostra riserva di avvicinarvi alla forgia per il turno successivo. Ma sapendo quello che fa, e vedendolo piccolo, l'avversario non avrà problemi, il più delle volte, a farlo fuori. Non fidarti di nessuno è un'azione che vi permetterà di rubare un'ambra, e se non dovessero esserci creature e amiche, di rubare un'ambra per ogni casata rappresentata tra i servitori presenti sul campo rivale. Ottimo starter che nelle prime fasi di gioco potrebbe, ai fini della vittoria finale, dare un bel supporto. Altrimenti un'ambra rubata è sempre meglio di niente. La gang della catena è una carta che mi ha sempre incuriosito. Se si ha in mano assieme a catena impercettibile, la loro combinazione vi permetterà, nello stesso turno, di scartare una carta dalla mano del vostro rivale, di rubare un'ambra dalla riserva avversaria, e di rimescolare la catena impercettibile nel vostro mazzo. Una combinazione interessante, soprattutto se si hanno più copie di catena nel proprio deck. Ma ahimè, qui ce n'è una sola, che comunque fa il suo sporco lavoro. Della carta segrete ne abbiamo parlato in sezione Logos, carta che è pura dal gioco, creature piccole, rappresenta l'incubo peggiore di ogni figlia, Fagin, John Smith e qualsiasi creatura che ha piccola forza, ma grande effetto. È pur vero che, se si giocherà contro Mazzy Board, questa carta lascerà il tempo che trova, non avendo impiego per tutta la durata della partita. In quel caso, scartarla il primo possibile per liberare la mano rappresenterà la scelta più saggia e giusta da fare. Altrimenti, piccole creature diti addio alla partita. Catena impercettibile è la gemella ombre di Aculei mentali di Cassata Dis, ma con un'arma in più. La catena ha una carta di supporto che interagisce con essa, ovvero la gang della catena. Se utilizzata bene e nel timing giusto, questa combinazione di carte rappresenterà una vera e propria spina nel fianco per il vostro avversario, che si ritroverà turno dopo turno ad avere una carta in meno da giocare. Anche qui, proteggere la gang per rubare di continuo e per pescare le catene il più presto possibile rappresenterà una strategia valida, ma allo stesso tempo macchinosa, che rallenterà il motore dell'intero mazzo. Quindi, a differenza di Livia e tutte le altre carte che dovrebbero essere protette, proteggere la gang in attesa dell'uscita delle catene non ne varrà la pena. Tondola la vedo davvero fragile. Se disgraziatamente si trova su un fianco, viene distrutta e se un giocatore forgia una chiave, otteniamo due. Va bene il fatto che ha schieramento, va bene il fatto che ha illusione, ma rimane pur sempre 1 a 1 di costituzione. Con Simon e la talpa nei logos forma il trio fragile, che potrebbe far crollare i propri schemi di gioco. Unica utilità, prima che il vostro avversario crea una chiave e se si sono rubate ambre per quel che si può fare, avere due gemme non appena il rivale forgia rappresenta tuttavia un buon compromesso. Ultima ad accompagnarci in questo viaggio è la talpa nei logos. Carta speciale che ha 1 di costituzione. È vulnerabile nonostante abbia illusione e sicuramente avrà vita breve, dato che con mutazione di massa, le carte che hanno piccoli danni hanno incrementato il loro numero. Carta a mio parere situazionale potrebbe avere una piccola utilità se anche l'avversario giocasse logos. In quel caso ci verrebbe regalata eventualmente un'ambra, in attesa di prenderne una seconda nel prossimo turno, scegliendo logos a nostra volta e sperando che la talpa sopravviva al turno rivale. Ma se così non dovesse essere, bisognerà far pace con il fatto che, probabilmente, quell'ambra che prendereste scegliendo la casata dei meccanici e degli scienziati non farà mai comparsa nella vostra riserva. Una sezione ombre che non mi convince più di tanto, a differenza delle altre due che comunque qualcosa da dire ce l'hanno e possono seguire una strategia ben definita. Questa invece fatica a trovare interazioni con le altre casate, se non per andare ad influire un minimo la riserva avversaria per poi cercare con fatica di svuotarla. E in più presenta soltanto un paio di combinazioni utili, ma che comunque non cambierebbero le sorti di un incontro nell'immediato. Per quanto riguarda il mazzo, invece, lo trovo interessante, ma soltanto per farsi un paio di partite di test, anche se, a prima vista, risulta essere macchinoso. Sicuramente la casata di supporto principale è rappresentata da logos e dà un valore indiettamente superiore a quello di ombre e si limita a rubare quello che basta per alleggerire il carico. I sauriani, invece, si assicurano il titolo di casata principale in questo deck, avendo a disposizione tutto quello che serve per limitare i danni. Per concludere, il deck non è uno dei migliori, ma nonostante ciò può far divertire chi lo gioca. Le sue caratteristiche lo evidenziano come mazzo control, ma non ha la forza necessaria per controllare la board contro mazzi che puramente possono definirsi tali. Quindi rimane un mazzo nella media, che non è né carne né pesce e che non consiglio di giocare in circuiti competitivi di alto livello. Lo consiglio invece, al massimo, per partecipare a qualche evento locale con un grande in bocca al lupo e per sfidare i propri amici in una partita amichevole. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki, una pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa e se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!